Ben ritrovati ad una nuova puntata dell'ospedale per amico. Oggi parleremo del nostro cuore e dei casi in cui ahimè ci tradisce, in cui non funziona come dovrebbe. Ne parliamo con il direttore della cardiologia dell'azienda ospedaliera, professor Bassanelli, ben trovato. Parliamo appunto di questi casi che possono colpire purtroppo anche giovanissimi, anche atleti. Perché avvengono queste morti improvvise? La maggior parte delle morti improvvise sono dovute alla cardiopatia ischemica, all'infarto del mio cardio. Contiamo che nei paesi industrializzati purtroppo questa cifra si aggiri attorno ai 350 mila all'anno. L'infarto produce nelle prime immediati minuti delle aritmie che noi chiamiamo ipercinetiche, cioè ad alta frequenza, che in realtà portano all'arresto cardiaco. E questa è la causa della morte improvvisa ed inaspettata, perché il paziente non aveva mai avuto precedentemente dei sintomi. In quali altri casi si può verificare un malfunzionamento del cuore? Ci sono poi delle altre cardiopatie nelle quali l'aritmia è alla base stessa, non ci sono infarti, ma l'aritmia è dovuta ad anomalie spesso congenite, delle alterazioni dei canali che controllano gli scambi elettrici del cuore. Ce ne sono molte familiari, alcune sono acquisite da farmaci, che possono essere presi come antidepressivi, ad esempio, modificano sostanzialmente la funzione diastolica del cuore, quindi generano aritmie. Come si interviene allora in questi casi? L'unica soluzione possibile è quella, teoricamente è duplice se vogliamo, è quella di dare farmaci contro le aritmie o utilizzare un dispositivo elettrico che scaricando il cuore, cioè dando un'energia al cuore, ne allulli di fatto l'attività elettrica per farlo poi ripartire. Molti anni fa sono stati fatti degli studi che hanno confrontato le due possibilità, quella farmacologica e quella elettrica, chiamiamo, ha vinto in modo definitivo quella elettrica. Quindi noi sappiamo oggi che un paziente che nella fase iniziale dell'infarto ha avuto queste aritmie o nei pazienti che abbiano un alto rischio, basato su dei parametri clinici o strumentali, di avere queste aritmie, questi pazienti vanno incontro all'impianto di questo che viene chiamato defibrillatore automatico. Molti anni fa c'è stato un genio della cardiologia che si chiamava Mirowski che aveva pensato questo, ma la tecnologia non glielo permetteva perché le dimensioni di un defibrillatore erano molto grandi, sono quelle che vengono utilizzate ancora adesso nei campi sportivi per rianimare, o nelle palestre per rianimare i giovani che hanno avuto problemi. Come si applica tecnicamente il defibrillatore? Oggi il defibrillatore, lo vedrete, ha delle dimensioni molto ridotte e può essere applicato con una tecnica molto semplice. In realtà viene creata una tasca di solito al di sotto della clavicola perché la clavicola è in stretta vicinanza con le vene attraverso le quali noi possiamo con un catetere raggiungere il cuore e quindi controllarlo dal punto di vista elettrico. Il pacemaker controlla l'aritmia, la sente e quando decide che l'aritmia è una grave interviene scaricando e facendo ripartire in modo corretto il cuore. Ha nominato il pacemaker, che differenze ci sono tra le due macchine, tra il defibrillatore e il pacemaker? Il pacemaker serve sempre nelle condizioni in cui il cuore rallenta moltissimo la frequenza o si blocca, per cui il pacemaker interviene stimolando con piccolissimi stimoli e sostituendo in qualche modo la funzione elettrica del cuore. Quindi questo viene dato, impiantato in condizioni di riduzione estrema o blocchi estremi del cuore e il paziente ha delle sincopi, spesso che portano le sincopi, quindi il pacemaker è qualcosa che stimola il cuore. Il defibrillatore fa esattamente il contrario, quando il cuore va in fibrillazione ventricolare in realtà si contrae in modo eccessivo, anormale, non efficace e quindi il defibrillatore che cosa fa? Di fatto elimina completamente l'attività del cuore, quindi sono due cose se vuole completamente opposte. Poi è vero, una volta che il cuore è stato resettato dopo l'eccesso di attività, qualche volta si ferma e quindi il defibrillatore fa anche da pacemaker nei primi secondi dopo la scarica elettrica. Il defibrillatore è indicato quindi per pazienti di tutte le età o ci sono dei limiti? Dipende esclusivamente dalla patologia che c'è di base. Abbiamo dovuto applicare dei defibrillatori a giovani di 15-16 anni perché erano portatori di una cardiopatia congenita elettrica che era ad alto rischio di morte improvvisa. Questa ragazzina che io ricordo sempre perché ci manda gli auguri di Natale ed è bellissima, ha una patologia per la quale soltanto l'esecuzione di una corsa portava all'aumento dei livelli di sua adrenalina per cui lei andava in fibrillazione ventricolare, l'abbiamo documentato ovviamente facendola camminare e con tutte le precauzioni del caso. Ha un defibrillatore, sta benissimo, è trattata anche con farmaci e noi possiamo controllarla anche a distanza peraltro perché non è italiana e quindi noi la vediamo sui nostri monitor qui. Oppure crescendo l'età, molte volte adesso anche pazienti in età molto avanzata perché l'infarto ormai si è spostata, la lunghezza della vita è aumentata e ci sono pazienti anche ultraottantenni che hanno un'aspettanza di vita di più di 10 anni e quindi non c'è niente di strano, quindi non esiste un limite di età, è la patologia che decide che cosa fare. Per chi invece non è indicato? Quando di fatto siamo in una condizione ad esempio in cui sia impossibile mettere il defibrillatore, ci sono pazienti che hanno molte volte molti cateteri già da tanto tempo e il defibrillatore non sia possibile inserirlo immediatamente perché hanno infezioni. L'infezione dei cateteri è una delle condizioni in cui perlomeno temporaneamente noi dobbiamo aspettare a infilare e mettere un defibrillatore. Ci sono dei defibrillatori esterni come dei giubbini che possono essere portati oppure una soluzione, quella che noi per prima abbiamo utilizzato qui in Italia, è quella di utilizzare questi defibrillatori che non hanno bisogno di elettrodi. Come funziona dunque questo nuovo modello di defibrillatore? Non si entra nel cuore ma si utilizza un elettrodo che si inserisce al di sotto della cute lungo lo sterno, questo elettrodo sente le aritmie alle due estremità e scarica il cuore nella parte centrale. È un impianto che non richiede l'accesso attraverso vasi, è un impianto del tutto sotto la pelle, quindi noi non usiamo vasi. Di fatto quindi va a semplificare la chirurgia, a renderla meno invasiva? Diciamo che metà è metà, nel senso che è vero, non accede ai vasi quindi a tutte le problematiche che è legate alla minichirurgia, è un accesso minichirurgico, si può fare in pochissimo tempo perché il catetere viene inserito attraverso un piccolo tunnel che viene fatto, è già preparato, per cui la tecnica non è particolarmente complicata, ma come tutte le cose bisogna impararle e fare un certo numero prima di poter essere sicuri di farlo bene. Però ha il vantaggio enorme di non dover utilizzare i vasi. Ad esempio i pazienti tipici sono i pazienti in dialisi, che tra l'altro sono sempre stati esclusi da tutti i trial, però nei quali esiste l'indicazione, perché i dializzati hanno già il loro porto, tutte le vene e le arterie assolutamente coinvolte e sono molto a rischio di infezioni arterie. L'infezione dei vasi è un'infezione molto difficile da controllare, soprattutto oggi, quando i germi sono resistenti a moltissimi farmaci. Per cui in questi casi, ad esempio, è indicato nei giovani, nei quali ci potrebbe essere la necessità di usare i cateteri solo nelle fasi più avanzate. Nei giovani a di sotto di 40 anni, che abbiano malattie congenite di vario tipo, esiste la possibilità di utilizzare questo tipo di dispositivo. Noi l'abbiamo usato in un paziente giovane, ad esempio, che aveva una cardiopatia, questa era una delle prime volte che si è usato, cardiopatia congenita, che non era stato operato. È arrivato a più di 40 anni di età, non potevamo più inserire i cateteri, perché le pressioni all'interno del cuore erano eccessive e noi inserendo i cateteri, tra l'altro, avremmo anche danneggiato il paziente con possibilità di avere dei problemi di stroke cerebrali, perché aveva delle alterazioni dei flussi cardiaci. Quindi si è potuto applicare una tecnica che nella sua precedente testa non avrebbe potuto essere fatta. Ci fermiamo ora per qualche istante di pausa e poi torneremo a capire come funziona il nostro cuore, come funziona il defibrillatore. Torniamo a chiacchierare con il professor Corrado Vassanelli. Perché sentiamo dire che degli eventi cardiaci succedono anche a giovani sportivi che dovrebbero essere controllati dai medici nel corso della loro carriera? Purtroppo la morte improvvisa è inaspettata, perché dobbiamo mettere insieme due aggettivi. Cioè improvvisa è di sicuro, è inaspettata perché appunto non c'è nessuna possibilità di prevederla. Molti atleti hanno, in conseguenza anche forse della loro attività fisica, un eccesso di spessore della parete del cuore. L'aumento dello spessore si chiama ipertrofia. Alcuni soggetti hanno un'ipertrofia massiccia che genera questo tipo di aritmie. Altri hanno una patologia di tipo ereditario per cui una parte del ventricolo destro, questo non si vede con l'elettrocardiogramma, una parte del cuore destro genera dei microcircuiti che possono generare, dare queste aritmie. è necessario uno screening nella fase molto attenta, cardiologico, nella medicina dello sport. La medicina dello sport ha questa sfida, quella di eseguire degli esami strumentali che sono molte volte semplicemente un ecocardiogramma o da sforzo, perché questo ci permette di identificare dei soggetti ad alto rischio. Qualche volta ce lo dice la genetica, perché ci sono test genetici che ci dicono che le alterazioni della fase di riequilibrio degli elettroliti, che sono quelli che controllano poi l'attività elettrica del cuore, è alterato. Ci sono delle sindrome che portano il nome poi da autori come la sindrome di Brugada, che sono riconoscibili con un'attenta valutazione dell'elettrocardiogramma. Non è vero che l'elettrocardiogramma non ci dice niente. Se lo guardiamo molto attentamente, ci sono delle alterazioni. Per chi temesse una familiarità, quali controlli deve fare, può fare e a partire da che età? Può farli in tutta l'età, diciamo sostanzialmente il QT cambia nelle prime decadi di vita. Ovviamente l'elettrocardiogramma del pediatrico non è uguale all'elettrocardiogramma dell'adulto, tanto che vengono tutti eseguiti e letti dai cardiologi pediatri, non dai cardiologi dell'adulto. Fino a 16 anni devono essere visti da uno specialista. Però se teme questo, basta sostanzialmente fare uno screening che si basa sull'elettrocardiogramma, sulla prova da sforzo, perché le artimie pericolose non sono quelle che vengono a riposo, sono quelli che compaiono durante sforzo. Questo elettrocardiogramma da sforzo può essere fatto idealmente in bicicletta, in tapirulana, come si vuole, oppure per lunga durata. Noi adesso possiamo registrare l'elettrocardiogramma di un soggetto per settimane, perché programmiamo il nostro registratore in modo tale che intervenga quando sospette la retimia sospetta e quindi noi abbiamo tracciati di settimane, perché non è possibile replicare la vita reale su un tapirulana. Bisogna che lui vada a giocare a pallone e quella è la sua vita reale. Questo vale per tutti in realtà, non vale solo per noi, perché lo stimolo, lo stress non è assolutamente uguale. Per uomini e donne il rischio è uguale, è dello stesso livello? No, le donne sono protette in generale, soprattutto per la cardiopatia ischemica, fino alla... alla menopausa, per quello che riguarda la cardiopatia ischemica. Successivamente invece peggiorano. Tutto quello che avevano guadagnato nei primi 50 anni, nei successivi 40 anni lo perdono, perché si inverte il rischio e sono più a rischio le donne che gli uomini. Che vita si può condurre? Assolutamente normale. Qualche volta viene consigliato di invertire semplicemente la cintura della macchina, di sicurezza della macchina, perché è posizionato di sotto della clavicola di sinistra e quindi può dare... in realtà non dà fastidio, perché? Perché i defibrillatori di adesso sono di dimensioni assolutamente limitate, per cui sono coperti dal grasso che c'è nella zona del torace, per cui non si vede. Di fatto la vita che fa è normale, c'era un problema una volta, che questi defibrillatori sono costruiti di materiale di tipo ferroso, per cui c'era il sospetto che questi pazienti non potessero più fare esami con risonanza magnetica. Quindi si sono costruiti, si stanno utilizzando dei pacemaker o dei defibrillatori compatibili con la risonanza magnetica, perché è previsto che il 50% della popolazione mondiale nei prossimi anni abbia bisogno, nella propria vita, di un esame di risonanza magnetica. Quanto dura il defibrillatore dopo l'applicazione? Dura come tutte le macchine, dipende da quanti chilometri, che velocità fai. Le batterie in media durano più di 5-10 anni, ovviamente i pazienti vengono a fare i controlli, ma se il pacemaker o il defibrillatore interviene frequentemente, la batteria viene consumata rapidamente. Se il pacemaker o il defibrillatore interviene molto poco, il defibrillatore può durare tranquillamente 10 anni. Andremo insomma con l'età media che avanza verso un sostegno sempre maggiore al cuore grazie a questi macchinari? Assolutamente sì, l'età media dei pazienti che noi trattiamo ovviamente è sempre superiore, perché il terzo tipo di strumento elettrico con cui noi aiutiamo il cuore non è più soltanto il defibrillatore per controllare le aritmie in eccesso o il pacemaker per controllare le aritmie in riduzione, cioè le bradi aritmie, quelle lente. Il terzo strumento che abbiamo per aiutare il cuore è la combinazione dei due, se vuole. Il cuore quando non funziona bene non funziona solo poco, nel senso che non si contrae tanto, si contrae anche in modo anormale, nel senso che alcune zone si contraggono prima di altre e questo va a svantaggio dell'efficienza del cuore. E cosa si è pensato? Dice proviamo a fare un'altra cosa, proviamo a controllare noi la sequenza con cui le varie parti del cuore si contraggono. E così si è fatto, allora si mette un altro elettrodo e si fa in modo che la zona che vorrebbe contrarsi più tardivamente si contragga contemporaneamente o in modo coordinato con le altre. E questa tecnica viene utilizzata da uno scompenso cardiaco. Possiamo dire che avremo un cuore radiocomandato? Già, in qualche modo è già radiocontrollato, perché noi lo vediamo, noi li vediamo dal computer in ospedale e c'è un'equipe infermieristica la quale controlla i parametri principali del cuore e se è autorizzata a avvisare il medico, se trova che ci sono aritmie, ci sono condizioni particolari, pensi soltanto che il 80% degli ictus sono causati da un'aritmia cardiaca. Quindi in questo caso usiamo un altro sistema, mettiamo anche questo piccolo aggeggio elettronico che viene inserito sotto la clavicola oppure sotto lo sterno perché è ancora più piccolo e questo registra per mesi il battito e ci rivela quelle aritmie che possono essere causa anche se di breve durata di ictus. Tutto questo è possibile grazie a una struttura e un personale altamente qualificato. Verona è uno dei centri di riferimento anche per la cardiologia e per l'applicazione di questi sostegni. È una cardiologia che ha una produttività che sicuramente è superiore per alcune prestazioni di altissimo livello, superiore ad altri competitori vicini della stessa tipologia, cioè strutture universitarie e ospedaliere. Perché? Perché le frontiere noi le stiamo affrontando in prima linea portando la sostituzione valvolare a ortica che non si fa più in carichirurgia negli anziani ma si fa inserendo delle valvole, cercando di utilizzare tutti i materiali di ultima generazione, i vecchi stent che si utilizzavano, adesso noi li abbiamo quasi tutti riassorbibili, cioè mettiamo qualche cosa che dopo non c'è più, dopo 4-5 mesi, ma notare che il paziente è libero da dover prendere farmaci e poi mi riservo e ci ritroveremo penso in giugno, che l'argomento sarà molto difficile da affrontare, ma probabilmente saremo i primi a utilizzare delle cellule staminali muscolari, cardiache, iniettate nel cuore, coltivate soltanto per essere cardiache. Torneremo dunque a scoprire queste novità affascinanti, grazie professor Vassanelli, grazie anche a voi per averci seguito, l'ospedale per amico torna la prossima settimana. Grazie a tutti.